Mi faccio ridere il fatto che subito la prima risposta è stata quella più istintiva o tutto ciò di cui mi serve. È vero in questo momento, durante questo periodo tante aziende si sono veramente in qualche modo hanno raccolto tutta una serie di strumenti, informazioni, gestione, management e quindi per loro è stato necessario veramente organizzarsi per avere postazioni di lavoro sicure. Quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti, c'è tanto ancora da fare ma sicuramente è stato fatto un bel passo in avanti.